Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo webinar dell'approfondimento del dottor Roccasalva, l'indicazione della conferenza dei servizi, il riepilogo degli adempimenti, la segnalazione certificata di inizio attività SCIA, problematiche e profili applicativi. Faremo questo approfondimento di all'incirca un'ora, un'ora e mezza e noi siamo a disposizione per gli approfondimenti, le domande e le richieste di approfondimento e io darei la parola appunto al dottor Roccasalva che ringrazio della partecipazione e a cui lascio la parola. Grazie Pamela, buongiorno a tutti. Come leggete in questa slide introduttiva, oggi parleremo, nelle prime due slide facciamo un breve ricapitolo dei principali adempimenti che bisogna porre in essere quando occorre indire o convocare una conferenza dei servizi, quindi l'oggetto degli ultimi due webinar che abbiamo fatto tra marzo e aprile e poi parleremo invece più diffusamente della SCIA con un focus particolare sulle principali problematiche applicative. Quindi se vogliamo andare con la prima slide, ok, quindi vediamo in sintesi facendo appunto un paio di slide di chiusura di quello di ciò di cui abbiamo parlato negli ultimi webinar, quali sono fondamentalmente i passi da compiere, quindi cosa deve fare un responsabile del procedimento per gestire, almeno provare a gestire in maniera efficace la conferenza dei servizi. Allora, intanto il primo passo è quello di effettuare uno screening preliminare, quindi un'analisi preliminare del procedimento, verificare in particolare se sussistono i requisiti di legge quelli previsti dall'articolo 14,2 della legge 241 del 90, quindi se sono richiesti, se è richiesta la famosa pluralità di pareri, intesi, concerti o comunque atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni che dal 2016, come sapete, con la legge 127 rende obbligatoria, quindi non più facoltativa, l'indizione della conferenza dei servizi. Quindi questo è il primo passo, quindi capire se c'è questa pluralità di amministrazioni che devono rendere i pareri. Il secondo passo naturalmente è capire, fondamentale, quali sono gli uffici e gli enti competenti da invitare, da invitare in conferenza, dove per uffici intendo naturalmente gli stessi uffici della propria amministrazione e gli altri enti che devono essere invitati a esprimere i pareri. Dopodiché, altro aspetto fondamentale, capire bene, tutto questo purtroppo, questa è la nota critica di cui parlavamo già nei precedenti webinar, va fatto in soli cinque giorni lavorativi, che non sempre è possibile, non sempre si riesce a fare, ma questa è la tempistica che prevede la legge. Quindi il terzo passo, qual è la documentazione necessaria per ogni ente da invitare in conferenza? Quindi in questo caso, laddove è possibile, naturalmente laddove si occorre la modulistica unificata, quella che trovate sui portali del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle Regioni, naturalmente, quindi la modulistica unificata che è stata introdotta nel nostro paese a partire dal 2017, lì in calcio alla modulistica c'è tutto un elenco di documentazione da, diciamo così, da spuntare, quindi il check si fa in maniera abbastanza facile. Laddove naturalmente ciò non si occorra, occorre verificarlo caso per caso, qual è la modulistica, la documentazione da allegare, e questo è possibile farlo, almeno nella mia esperienza, che entrai al SWAP nel lontano 1999, quindi gli albori, diciamo, dell'istituzione di questo ufficio, con l'esperienza, quindi ci si tara man mano a capire qual è la documentazione da allegare per ciascun ufficio, stando attenti naturalmente a evitare di trasmettere documentazione che non serve, perché l'andazzo solito è quello di chiedere più documenti di quelli che ci servono da parte di ogni ufficio, di ogni ente, quindi capire bene e anche avere un ruolo proattivo per razionalizzare appunto gli adempimenti a carico del privato. Dopodiché, naturalmente questo è un suggerimento, non è obbligatorio, ma è una buona prassi quella di disporre, laddove non sia stato fatto da regioni o unioni di comuni o quant'altro, o dal proprio comune, attrezzarsi per avere modulistica standard, quindi modelli standard che poi devono essere personalizzati per adattarli a casi concreti. A cosa ci riferiamo? Per quanto riguarda la conferenza, quella ormai che va gestita in maniera principale, cioè la conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, quindi quella che è la regola dal 2016, l'ha un format di comunicazione e di indizione, e in particolare in questi casi un documento che già contenga quello che è previsto dall'articolo 14 bis della 241, in particolare il comma 2, quindi l'oggetto della determinazione, l'oggetto della conferenza, il termine perentorio entro cui è possibile chiedere documentazione o chiarimenti, il termine perentorio per esprimere i pareri, la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona, laddove ce ne sia bisogno, eccetera. Quindi questo è un primo format importante. Ancora, un format di determinazione motivata, di conclusione positiva della conferenza. Andiamo avanti. Così come un format di prima determinazione di conclusione negativa, perché come è chiaro, come è evidente, la conferenza può chiudersi con esito favorevole o negativo. Nel caso di determinazione negativa, come abbiamo già visto negli altri, nei precedenti webinar, c'è una prima determinazione negativa che vale, diciamo, a tutti gli effetti come comunicazione senza dell'articolo 10 bis, quindi non è una comunicazione tombale, ma è sempre di chiusura del procedimento con esito negativo, ma ha un effetto di una comunicazione di motivi ostativi, rispetto al quale, come ricorderete, il privato può chiedere, può presentare controdeduzioni, alcune osservazioni, e se queste non vengono superate, quindi anche qua, in questo caso, una volta pervenute, un altro format utile è quello di trasmettere un format di trasmissione delle eventuali osservazioni pervenute dal privato, dall'interessato, perché è importante questa nota di trasmissione? Perché non ci limiteremo a scrivere, si trasmette per gli adempiamenti di competenza, ma in questo format evidentemente scriveremo qualcosa del tipo si rammenta che ai sensi dell'articolo 14 bis bisogna esprimersi con riferimento alle osservazioni pervenute, come prevede anche il nuovo testo dell'articolo 10 bis della 241, quindi bisogna riesprimersi sulle nuove osservazioni pervenute, perché questo è un requisito di legittimità poi del provvedimento finale, facendo presente che in caso di mancata di espressione ci si avvale magari della facoltà di convocare la conferenza in modalità sincrone. E poi un altro format è quello della seconda determinazione di conclusione negativa, perché il caso l'abbiamo già visto la volta scorsa, quindi le contradduzioni non sono servite a superare il parere negativo di uno a più enti, e quindi in questo caso, motivatamente questo è naturale, e quindi in questo caso io come responsabile del procedimento emanerò una seconda determinazione, questa volta sì, definitiva, tombale, nella quale inserirò la famosa clausola avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso al TAR entro, secondo la tempistica, 60 giorni, o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120, dalla ricezione, che si tratta sempre di atti ricettizi naturalmente. Un altro modello che può essere utile è quello di, con cui comunico lo svolgimento della conferenza in modalità sincrona, nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 14 bis, quindi quando arrivano atti di assenso o dissenso che indicano condizioni e prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, quindi quando capisco fondamentalmente che è inutile stare lì a gestire una conferenza in modalità asincrona, perché soltanto con la contestualità sarà possibile gestire la complessità che si è venuta creare, e poi infine, con riferimento sempre alla conferenza semplificata, una comunicazione invece di indizione direttamente in forma simultanea, perché ricorderete che il comma 7 dell'articolo 14 bis consente ai responsabili del procedimento, ma non solo, anche agli enti interessati, agli enti invitati, anche eventualmente ai privati interessati, motivatamente di chiedere l'indizione direttamente in modalità simultanea e sincrona nei casi di particolare complessità. Questo per quanto riguarda una modulistica essenziale in caso di gestione, per un'ottimale gestione della conferenza in modalità asincrona, nel caso invece di conferenza in modalità simultanea, quindi in modalità asincrona, oltre a quanto sopra, atti, format diciamo di modelli che possono essere utilmente predisposti riguardano le modalità di designazione del rappresentante unico, questo naturalmente vale nel caso in cui devo intervenire, non sono io responsabili del procedimento, ma sono un ente, il rappresentante di un ente, di un ufficio invitato a partecipare, quindi sapete che oggi nella conferenza, ne parlammo l'altra volta, nella conferenza sincrona, le amministrazioni per ciascun livello di governo si esprimono attraverso il rappresentante unico, quindi le modalità di designazione di questo rappresentante unico, schemi di verbali intermedi e del verbale finale, e infine la determinazione motivata di conclusione positiva o negativa che sia della conferenza. Ricordo che, torniamo un attimo indietro, ricordo che nella conferenza in modalità sincrona non è necessario porre in essere due determinazioni finali con esito negativo a differenza di quella asincrona per semplice motivo che qui il principio del giusto procedimento, quindi dell'apporto collaborativo dato dall'interessato, si è già verificato, quindi non è necessario fare quella doppia determinazione negativa che abbiamo visto a proposito della sincrona, perché lì come abbiamo visto la prima determinazione negativa che valeva ai sensi dell'articolo 10 bis serve appunto a consentire al privato di entrare nel procedimento e controdedurre. In questo caso evidentemente le controdeduzioni, le osservazioni del privato interessato sono già contenute nei verbali intermedi, quindi non c'è bisogno della doppia determinazione negativa. Quindi con questa specifica diciamo io chiuderei la parte relativa alla gestione della conferenza dei servizi e apriamo invece il focus dell'incontro odierno che è relativo alla segnalazione certificata di inizio attività. Andiamo con la prossima slide, ecco qua, un breve ricapitolo naturalmente della normativa che è data dagli articoli 19 e 19 bis, il 19 bis è stato introdotto anche questo nell'ambito della riforma Madia, la legge 124 del 2015. Quindi abbiamo, mentre fino a qualche anno fa, fino al 2016 avevamo la scia dal 2010 che è stata introdotta al posto della vecchia dia, quindi col decreto legge 78 del 2010, qualcuno ricorderà, è stata introdotta nel nostro ordinamento la segnalazione certificata di inizio attività, tale è rimasta come unica modalità di segnalazione certificata, l'efficacia immediata, fino al 2016, appunto esisteva soltanto la scia. Poi invece con la riforma Madia si sono introdotte due modalità ulteriori di segnalazione certificata, che sono appunto la segnalazione certificata di inizio attività unica e quella condizionata, ma queste trattate rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 bis, ma questo li vedremo tra qualche slide. Concentriamoci per adesso sulle regole che poi in gran parte, diciamo nella quasi totalità, valgono per tutte le forme di, soprattutto per continuare dalla scia unica e in parte anche per la scia condizionata, e vediamo quindi quando è possibile assoggettare un'attività a scia. È possibile, quindi la scia sostituisce tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso, atti di assenso comunque denominati comprese le iscrizioni negli alghi e ruoli, quando l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti previsti dalla legge, legge o atti amministrativi, regolamenti a contenuto generale. Quindi quando non ci sia fondamentalmente un margine di discrezionalità in capo all'istruttore, e chiaramente non si è previsto alcun limite o contingente complessivo previsto da strumenti di programmazione settoriale. Che vuol dire in questo caso, quest'ultimo inciso? Come sapete, chi di voi ha affrontato la problematica della, ad esempio della direttiva servizi, sa bene che oggi non è più possibile effettuare, come si faceva una volta, il contingentamento per esempio delle, quelle che erano licenze per le pubbliche somministrazioni del pubblico di alimenti e bevande, sulla base di parametri quantitativi, eccetera, però è possibile, a esenza dell'articolo 64 del decreto 59-2010, vi ho fatto un esempio, ma ce ne possono essere altri, a seconda, per tutte le attività economiche, come è previsto oggi con il decreto, con il decreto scia 2, il decreto legislativo 222 del 2016, è possibile per finalità di tutela di interessi di rango costituzionale, quale ad esempio è la tutela del patrimonio artistico, archeologico, monumentale, l'ambiente, la vivibilità nei centri urbani e quant'altro, quindi tutto quello che trovate fondamentalmente e nell'articolo 64 e nel decreto 222 è possibile, addirittura in casi estremi, inibire o comunque assoggettare a limiti, l'apertura di nuove attività commerciali, somministrazione e quant'altro. Naturalmente è previsto in questo caso lo strumento dell'intesa comune-regioni, che deve essere poi, deve essere trasmessa al Ministero, al MIBAC e al MISE per quanto di competenza e laddove vengono i presupposti anche notificato alla Commissione Europea, ma questo diciamo, stiamo entrando in un altro aspetto. Quello che bisogna sapere è che è chiaro che nel momento in cui vi è un assoggettamento, vi è un limite quantitativo ad esempio al numero di somministrazioni che possono aprirsi nel mio centro storico, è chiaro che in quel caso non può esservi la scia, ma occorre l'istanza di autorizzazione. Perché? Perché io come ente pubblico, come comune, devo sapere, devo avere contezza che quel numero non venga superato e soprattutto che vi siano i requisiti qualitativi conformi alla mia programmazione. Perché appunto abbiamo detto che la programmazione settoriale oggi deve obbedire a dei criteri qualitativi e non più quantitativi. Quindi non è possibile più, come si faceva negli anni 90, una programmazione legata ai bisogni dell'utenza in cui il comune si improvvisava, come dire, economista e programmatore, per cui sapeva in anticipo quali erano i bisogni delle famiglie e quant'altro, i flussi della popolazione residente e fluttuante e sulla base di questo stabiliva dei numeri, dei contingenti massimi. Oggi no, oggi questa programmazione deve essere fatta in maniera qualitativa, come dicevamo. Ad ogni modo, tornando all'articolo 19, la segnalazione quindi si chiama certificata, non è una semplice segnalazione, ma è certificata quella C, sta appunto a indicare che deve essere corredata da dichiarazioni che sostituiscono tutte le certificazioni e anche l'atto di notorietà, quindi agli articoli 46 e 47, le famose DISAN, le dichiarazioni sostituive dell'atto di notorietà, vengono tutte inserite all'interno della SCIA. Così, come se è previsto, anche la SCIA deve essere corredata dalle attestazioni e da asseverazioni di tecnici abilitati. Quindi, nei casi previsti dalla modulistica della legge, la SCIA deve essere anche corredata dalle elaborati tecnici necessari per effettuare, affinché l'amministrazione possa effettuare le proprie verifiche. Laddove la normativa prevede l'acquisizione invece di, anche in questo caso, di atti o di pareri di enti, di organi e quant'altro, o l'esecuzione di verifiche preventive, anche in questo caso, sono sostituite dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. Un caso lampante ce l'abbiamo, ad esempio, giusto per rimanere nel concreto, per quanto riguarda atti e pareri di organi, nelle recenti, come ricorderete, nelle recenti semplificazioni apportate, ad esempio, anche al TULPS, per quanto riguarda gli articoli 68 e 69, nonché 80 del TULPS, per quanto riguarda la materia dei pubblici spettacoli e degli spettacoli viaggianti, laddove in presenza di determinati requisiti legati all'affollamento e all'orario pubblico. È possibile che la dichiarazione, l'agibilità prevista dall'apposita commissione nominata dal sindaco, possa essere sostituita da un'asseverazione presentata dal tecnico abilitato, ma ci sono naturalmente tanti esempi. Il comma 2 è importante perché ci ricorda che questa, la scia, questo già dal 2010, a maggior ragione adesso, può essere iniziata anche nei casi di cui è l'articolo di per 9 bis comma 2, quindi anche in caso di scia unica, ma non comma 3 scia condizionata, quindi può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa all'amministrazione competente. Già questo vuol dire che se io la mando all'amministrazione competente, la mando al protocollo, non è importante, questo passaggio lo dobbiamo leggere in combinato e disposto con l'articolo 18 bis, che è stato introdotto anche questo, della riforma Madia, che tratta appunto della ricevuta, dell'inizio attività, della comunicazione all'inizio attività, non è necessario che io la presenti direttamente all'UFI, a meno che non vi siano portali quali quelli di infocamera, eccetera, ma in casi normali, in casi generali, diciamo, posso presentarla al protocollo, alla PEC del protocollo dell'amministrazione, poi gli eventuali tempi interni, in oltre della pratica, dal protocollo al su, app al su e chi per esso, naturalmente restano a carico dell'amministrazione che deve effettuare l'istruttoria, ma per me che presento la scia, io sono tranquillo sul fatto che i termini, il contatore, dei termini che subito vedremo, cominciano a decorrere da quando ho presentato la pratica all'amministrazione competente. Andiamo avanti. Allora, il comma 3, sempre dell'articolo 19 e della 241, ci dice quali sono i due rimedi che possiamo porre in essere nella nostra istruttoria. Poi le ultime slide saranno dedicate, appunto, accenderemo un focus proprio specifico sulla istruttoria della scia, per quanto riguarda la fase di controlli formali e la fase di controlli sostanziali. In questo caso possiamo dire da subito che l'articolo, il comma 3 dell'articolo 19 appresta per il responsabile del procedimento dell'istruttoria due rimedi che possiamo porre in essere rispettivamente entro 60 giorni per le scia di carattere amministrativo e 30 giorni per le scia edilizie, perché questi sono i termini, ahimè, per le scia edilizie, 30 giorni come previsto dal comma 6S bis della 241 dell'articolo 19. Quindi entro questa tempistica io posso porre in essere due atti. Nei casi più gravi un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essi. Quando c'è proprio una radicale, insanabile e irrisolvibile contrarietà dell'attività alle norme di legge e di regolamento, effettuerò un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione. Guardate, questo è importante perché troppo spesso si continua a leggere rigetto della scia. La scia, come poi vedremo in una slide successiva, non è una richiesta di parere o di decreo o di atto, di provvedimento. La scia è un atto privato e che tale rimane. Tanto è vero, lo vedremo in una slide più avanti, il rimedio da parte di un contore interessato non è impugnare la scia, per il semplice motivo che la scia non è un atto amministrativo. Quindi è possibile soltanto sollecitare il potere, l'esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione. Quindi questo per dirvi cosa, che in questi casi non è corretto parlare di rigetto della scia, perché si rigetta un'istanza, la scia tecnicamente non è un'istanza, ma io mi limito a segnalare, in questi casi con decorrenza con efficacia immediata, l'inizio della mia attività o nel caso di scia edilizia, l'inizio dell'inizio dell'apertura di un cantiere, l'inizio di un'attività di carattere edilizio, appunto. Questo però, abbiamo detto, sono i casi più gravi, nei casi meno gravi, quindi quando è possibile conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa, io effettuerò invece una semplice richiesta di conformazione. Quindi ti richiedo di conformarti, sulla base di criteri che indico evidentemente nella mia comunicazione, ti chiedo di conformarti dando un termine non inferiore a 30 giorni, ok? Quindi almeno 30 giorni per adottare queste attività, per adottare queste misure, diciamo, questi accorgimenti. Se questo non viene effettuato, decorso il termine, l'attività si intende vietata. Questo è quello che leggete nel comma 3 dell'articolo 19. Quindi la norma, come dire, sottintende un automatismo, no? Per cui io comunque nella prassi ho visto in molti casi, non la ritengo una scelta sbagliata, anche se forse si tratta di una, come dire, di un adempimento non necessario, però un atto in cui si esplicita proprio che l'attività è vietata, in quanto non sono stati rispettati i termini per entori almeno di 30 giorni dati dal suo a po' dal suo e per una questione di certezza del diritto non è, non la ritengo sbagliata. Ma comunque la norma dice che l'attività dei corsi, dei questi almeno 30 giorni, senza che siano state adottate misure conformative, si intende vietata. È importante ricordare che, date nei pochi giorni che abbiamo a disposizione, questo atto di provvedimento motivato di divieto di prosecuzione, ma ovviamente quello ha maggior ragione, ma anche la richiesta di conformazione, interrompe il termine di 60 giorni. Quindi interrompe, non sospende, interrompe, quindi vuol dire che poi ricomincia a decorrere da zero dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. Quindi dal momento in cui il privato si dichiara di aver ottemperato alla richiesta di conformazione, ricominciano a decorrere i 60 giorni per effettuare ex nuovo l'istruttoria. In questo caso, dalla data della comunicazione di avvenuta conformazione, se non ci sono provvedimenti da parte del suo oppo del suo, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Perché sospensione? Finora non ne abbiamo parlato. Non ne abbiamo parlato perché, in effetti, dal 2015, appunto dall'entrata in vigore della legge Madia, la legge 124 del 2015, andiamo avanti con la slide, non vi è più l'effetto sospensivo automatico. Prima, dal 2010 al 2015, vi era automaticamente, sulla base di una richiesta di conformazione, ne scaturiva automaticamente la sospensione dell'attività, l'obbligo di sospendere l'attività. Oggi invece non è più così, oggi la richiesta di conformazione non sospende l'attività, questo lo si fa, ovviamente scrivendolo e motivandolo, soltanto quando? Quando nell'effetto questa richiesta, cioè effetto questo atto di conformazione con sospensione, perché sono presenti attività non veritiere, attestazioni non veritiere, chiedo scusa, oppure ritengo che vi sia un pericolo per la tutela dell'interesse pubblico di rango costituzionale importante, quindi ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. Quindi quando vi sia un pericolo per la tutela di questi interessi pubblici, la richiesta di conformazione è agganciata a una sospensione dell'attività, negli altri casi invece no. Negli altri casi l'amministrazione può solo prescrivere le misure necessarie appunto per la conformazione alla normativa vigente. Andiamo avanti. Il comma 4, anche questo è molto importante, non è chiarissimo, diciamo così, usando neofemismo nella sua dicitura, ma è un comma molto importante, è stato modificato anche questo dalla legge Madia, la legge 124 del 2015, e cioè ci dice che decorso il termine per adottare i provvedimenti di qui sopra, comma 3 primo periodo, cioè la richiesta di conformazione o il divieto di persecuzione dell'attività, oppure i termini minori di cui al comma 6 bisti, quindi dei corsi 60 o i 30 giorni, per essere chiari, che cosa fa l'amministrazione? L'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medissimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies. Ora, per essere più chiari, cosa vuol dire questo comma? Vuol dire che questa era la legge Madia intervenuta sul comma 4 per risolvere un problema che ormai da anni, da 5 anni, da quando era entrata in vigore la scia, come dire, un problema che era all'ordine del giorno, cioè che succede se decorrono i 60 o 30 giorni a seconda che si tratti di scia amministrativa o scia edilizia senza che io abbia, per motivi non di cattiva volontà, ma per motivi di arretrati, di carenza di personale e quant'altro, senza che io abbia effettuato queste comunicazioni all'interessato, quindi senza che abbia comunicato la richiesta di conformazione o abbia disposto il divieto di persecuzione dell'attività, ma fino al 2015 si navigava molto a vista, diciamo, si andava molto a braccio. Dal 2015 c'è questa norma che, al di là del tenore elettorale, è abbastanza chiara, cioè l'amministrazione competente comunque, anche dei corsi di 60 o i 30 giorni, può vietare la prosecuzione dell'attività o può effettuare una richiesta di conformazione, però a condizione che sostistano le condizioni previste dall'articolo 21 nonies. Cosa sono le condizioni previste dall'articolo 21 nonies? L'articolo 21 nonies è quell'articolo introdotto nel 2005 nel corpo dell'attività 41 che prevede l'annullamento d'ufficio, quindi se ricorrono i presupposti per l'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo, allora io posso anche dopo i 60 o i 30 giorni emanare quelle comunicazioni, quei provvedimenti. Quali sono questi presupposti previsti dall'articolo 21 nonies? Intanto devo dare prova che sussiste ancora adesso una ragione di interesse pubblico. Badate che la giurisprudenza è costante, assolutamente costante, nel ritenere che la ragione di interesse pubblico deve essere sostanziale, deve essere un criterio sostanzialistico, non si può concretizzare in una mera esigenza formalistica di ripristino della legalità violata, deve esserci qualcosa in più, quindi questo è il primo requisito. Il secondo requisito è un requisito testuale, e cioè non devono essere passati con l'ultima riforma del 2021, il termine è passato a 12 mesi, quindi il primo era 24, 18, 12 mesi, quindi non oltre il termine 12, non devono essere passati 12 mesi. Ora è chiaro che 12 mesi nel disposto dell'articolo 21 nonies, che si riferisce ai provvedimenti ampliativi o negativi, si riferisce 12 mesi dalla emissione del provvedimento. Nel caso della scia, dove non vi sono provvedimenti veri e propri, qual è il termine in questo caso? Opportunamente in questo caso si occorre il decreto scia 2, quindi il decreto legislativo 222 del 2016, l'articolo 2,4 ci ricorda che in questo caso, o meglio ci dice che in questo caso il termine di 12 mesi decorre dalla scadenza del termine ordinario di verifica, cioè una volta decorsi i 60 o i 30 giorni, rispettivamente previsti dal comma 3 o dal comma 6 bis dell'articolo 19, da quel momento decorrono i 12 mesi. Infine il terzo requisito è importante, quindi devo motivare la ragione di interesse pubblico, devo verificare che non siano decorsi i 12 mesi dalla scadenza dei 60 o di 30 giorni, ma infine devo anche dare conto nel mio provvedimento che ho tenuto conto degli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati. Questi sono tutti requisiti richiesti come necessari dell'articolo 21 nonies per poter annullare ed ufficio un provvedimento. Quindi se ricorrono questi presupposti posso, anche dopo la scadenza dei 60 o dei 30 giorni, nei successivi 12 mesi, emanare una richiesta di conformazione o un divieto di prosecuzione dell'attività. Andiamo avanti. Quindi questa slide ve l'ho già esposta prima, però è per esemplificare ancora di più. Quindi con la riforma Madia, con l'uovo comma 4, non è che io adesso prima avevo 60 o 30 giorni, adesso 60 giorni più 12 mesi, oppure per la scedilizia ho 30 giorni più 12 mesi, perché una volta di costi i 60 o i 30 giorni la possibilità di effettuare, io direttamente se il mio ufficio è quello che ho anche competente nel merito, oppure chiedere di effettuare negli altri casi, una richiesta di conformazione o un divieto di prosecuzione dell'attività, sono limitati appunto alla sussistenza dei requisiti posti dal 21 nonies. Quindi per essere chiari, nei 60 o nei 30 giorni ho un potere ampio, diciamo chiaramente un potere discrezionale che non deve mai sfociare nell'arbitrio, nell'irragionevolezza, ma comunque un potere abbastanza ampio di effettuare questa richiesta di motivata di conformazione o un divieto di prosecuzione dell'attività. Nei successivi 12 mesi lo posso ancora fare, ma ho un binario più stretto che quello dei requisiti previsti dall'articolo 21 nonies. Andiamo avanti. Sì, volevo dire una cosa Riccardo, se ci sono domande o richieste di chiarimenti chiaramente siamo a disposizione. Naturalmente, poi risponderò negli ultimi 15-20 minuti della... Parti di prendere fiato. Grazie, bevo. Eh, bere un attimo perché... Va bene, grazie. ...è più di ora che parli. Ok, vado avanti con la slide. Ok. Chiaramente, nel caso in cui, immaginiamo il caso della scia unica, l'ufficio procedente non è quello competente nel merito, quindi è un procedimento unico gestito dal suo oppo dal sue, è sempre l'ufficio competente nel merito che deve motivare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, non l'ufficio procedente. Quindi l'ufficio che è competente nel merito, perché sarà sempre l'ufficio competente nel merito che deve dire ci sono i presupposti per poter effettuare un divieto di prosecuzione dell'attività o una richiesta di conformazione nei 12 mesi successivi. A meno che chiaramente questo non vale se il suo oppo e il sue siano anche, coincidono con l'ufficio competente nel merito, in quel caso non ci sono problemi. Andiamo avanti. Ancora, gli ultimi commi interessanti per quanto riguarda l'articolo 19 della 241, quindi per la scia propriamente detta, la scia semplice, se il fatto non costituisce più grave reato, vi sono delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni o attestazioni o asseperazioni false, diciamo così. Quindi, in questo caso è prevista la reclusione da uno a tre anni. Facciamo attenzione perché nella 241, in particolare nell'articolo 19, troviamo attestazioni non veritiere, ma anche nel 21 nonies, nell'articolo 21 nonies, attestazioni non veritiere e dichiarazioni false. Naturalmente la differenza è lampante, nel senso che la dichiarazione non veritiera, è una dichiarazione che io, pur fatta in buona fede, sulla quale io non condivido, cioè non ritengo che vi sia un regime normativo, regolamentare, eccetera, quale tu hai dichiarato, quindi do un'interpretazione della norma diversa da quella che dai tu. Altro è la dichiarazione falsa, io dichiaro l'esistenza di un titolo abilitativo edilizio che semplicemente non sussiste, dichiaro un atto presupposto a monte che non esiste, faccio solo degli esempi banali naturalmente, quindi questo è invece una dichiarazione falsa che prevede naturalmente il dolo, che quindi è ponita con la reclusione da uno a tre anni. Il comma seter, infine, legato a quello che vi dicevo a poc'anzi, ci dice che la scia, ma così come anche la denuncia, la dichiarazione di inizio di attività, non sono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, perché non sono proprio provvedimenti, quindi sono atti di parte che non assumono mai valore provvedimentale, pur consentendo l'esercizio dell'attività, ma non sono atti della pubblica amministrazione, sono, se volete, un esempio, come dire, un'estrinsecazione, oltre che dei principi di semplificazione, anche di sussidiarietà orizzontale, quindi io consento al privato di intervenire al posto della pubblica amministrazione, dichiarando tutta una serie di atti che altrimenti prima avrebbe dovuto, di cui prima avrebbe dovuto chiedere l'ottenimento, adesso invece li può autocertificare, autodichiarare. Quindi l'interessato, se questo è vero, i controinteressati possono soltanto sollecitare l'esercizio delle verifiche che spettano all'amministrazione e solo in caso di inerzia da parte dell'amministrazione possono agire esensi del decreto legislativo 104 del 2010, che è la riforma del processo amministrativo, in questo caso agirò non contro la scia in sé, ma contro il silenzio e un adempimento da parte dell'ufficio procedente. Quindi questo è il regime oggi previsto dall'articolo 19 della 241. Andiamo avanti. Un passaggio, naturalmente dobbiamo farlo con riferimento al decreto semplificazioni su cui a suo tempo tra il 2020 e il 2022 abbiamo fatto anche molti webinar come Formez su questi importanti decreti. Il decreto legge 76 del 2020 e il successivo cosiddetto decreto PNRR, il decreto legge 77 del 2021 che hanno introdotto modifiche significative anche per la conferenza dei servizi che abbiamo già visto la volta scorsa. Ad ogni modo, il 76 del 2020 introduce un nuovo comma nell'articolo 2 della 241 che è significativo anche in ottica di istruttore della scia. Perché? Perché questo nuovo comma 8 bis sempre per stigmatizzare e sanzionare in qualche modo il silenzio della pubblica amministrazione introduce l'inefficacia to cure dei provvedimenti tardivi. Quindi li elenca, ci sono tutta una serie di provvedimenti tardivi, ovviamente qui non ne parliamo per brevità perché il focus di questo breve incontro è sulla scia. Ad ogni modo, sappiate che anche il divieto, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività sono considerati inefficaci, quindi è uno stigma come dire, testuale, chiaro, previsto dal comma 8 bis dell'articolo 2 della 241 e adottato dopo i 60 o i 30 giorni. Ma anche in questo caso opportunamente il comma 8 bis ci ricorda che resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 nonies o ve ne ricordano i presupposti e le condizioni. Quindi questa è un'ulteriore conferma di quello che dicevamo poc'anzi e cioè che una volta decorsi i 60 o i 30 giorni delle due luna o ritengo motivando chiaramente che vi siano i presupposti previsti dall'articolo 21 nonies e ve li ricordo ancora una volta quindi fondamentalmente il non decorso il mancato decorso di ulteriori 12 mesi dal termine di scadenza dell'istruttoria l'aver contemperato le esigenze gli interessi degli interessati e degli controinteressati e la permanenza della sussistenza dell'interesse pubblico di carattere sostanzialistico quindi se do conto evidenza e motivazione che sussistano questi elementi posso intervenire anche dopo. Quest'articolo invece ve lo segnalo così come come nota questo comma 8 bis introdotto nel 2020 nel corpo dell'articolo 2 della 241 invece non si applica alle richieste di conformazione quindi ma soltanto ai divieti di prosecuzione dell'attività andiamo avanti quindi quindi questo per 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 chiarirlo quindi il divieto tardivo di prosecuzione dell'attività è sanzionato sempre come inefficace dalla legge vi ricordo che nell'articolo 8 bis trovate tutta una serie di di provvedimenti importanti nel nel comma 8 bis dell'articolo 2 che sono sanzionati con l'inefficacia quindi parli anche di cose molto importanti come ad esempio il il rilascio tardivo di pareri da parte della degli enti in conferenza ai servizi o o anche provvedimenti relativi alla scia condizionata che poi vedremo 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 tra un attimo insomma tutti i provvedimenti che resi tardivamente sono inefficaci a meno che non ricorrano i presupposti della dell'annullamento d'ufficio quindi andiamo avanti ok con come vi dicevo quindi fino al 2000 al 2015 e 2016 quindi fino alla riforma Madia esclusa esistiva soltanto questo modulo procedimentale la scia propriamente detta c'era però un problema e cioè che la scia non bastava in quanto tale a rendere conto della complessità di taluni procedimenti amministrativi c'erano delle delle attività come ad esempio banalizzo aprire una salumeria aprire un un bar dove come minimo dovevi dovevi anche presentare oltre la scia principale anche la notifica alimentare che come sapete comunque a valenza di scia perché è efficace e immediata anch'essa all'autorità sanitaria competente per il territorio eccetera 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 in questo caso in questo caso è stato opportunamente introdotto con il nuovo articolo 19 bis della 241 nel comma 2 è stata introdotta la cosiddetta scia unica scia unica che infatti oggi trovate nei regimi abilitativi previsti dalla tabella A legata al decreto legislativo 222 del 2016 quindi quella che vi dice per le varie attività censite secondo alcune macro attività fondamentalmente attività commerciali produttive in senso lato attività edilizie attività ambientali quali sono i regimi abilitativi dove si divide tra come mera semplice comunicazione scia 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 unica scia condizionata silenzio assenso autorizzazione vera e propria ora vi ricordo che questa tabella è stata proprio recentissimamente integrata modificata e integrata con il decreto legge 19 del 2024 che è stato poi convertito nel fine aprile di quest'anno che che invece ha introdotto per tutta una serie di attività artigianali il regime della totale liberalizzazione quindi sono tutta una serie di attività le attività artigianali più banali da quello che fa le cordicelle per riparare le sedie a tutta una serie di altre attività quindi le trovate comunque nell'allegato alla tabella negli allegati B1 e B2 del decreto legislativo 19 del 2024 trovate tutta una serie di attività che sono completamente liberalizzate questo però quindi anche attività più importanti quindi l'attività di si dice attività di montaggio palchi stende altre strutture costruzione ricostruzione ovviamente attenzione non l'attività di montaggio palchi ma in sé non il montaggio ma l'attività se io voglio iniziare un'attività di infatti c'è il codice ATECO collegato non dovrò comunicare nulla al comune a meno che non vi siano ulteriori radempimenti di carattere ambientale igienico sanitario e quant'altro ma quello è un altro discorso l'attività in sé l'inizio attività collegata a quel codice ATECO non deve essere neanche comunicata al comune però questo esula dalla trattazione odierna potete leggere il direttore 19 del 2024 ad ogni modo dicevamo che anche in questo caso quindi ho più endoprocedimenti tutti assoggettati a scia o a comunicazione in questo caso il regime abilitativo macro è sempre la scia unica e anche in questo caso perché sono tutte attività sono tutti endoprocedimenti soggetti a scia la data di presentazione della segnalazione coincide con la data in cui posso avviare l'attività quindi non cambia nulla per il privato cambia soltanto la modulistica e la documentazione da allegare evidentemente e anche in questo caso si tratta chiaramente di attività liberalizzate per le quali l'amministrazione deve soltanto verificare che sussistono i requisiti e i presupposti fissati dalle norme in questi casi sono esclusi dalle fattispecie di scia uniche i casi in cui alla scia siano connesse anche autorizzazioni espresse oppure quelle che si perfezionano con il silenzio al senso in questo caso invece è stata introdotta un ulteriore fattispecie di scia che la scia condizionata andiamo avanti come si svolge il procedimento senza ritardo l'amministrazione trasmette la documentazione alle amministrazioni interessate per effettuare i controlli e le verifiche di competenza almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini quindi almeno cinquantacinque giorni prima per la scia scusa almeno entro quindi entro cinquantacinque giorni della presentazione della scia in caso di scia amministrativa entro venticinque giorni della presentazione della scia in caso di scia edilizia le amministrazioni possono eventualmente o non dicono niente in quel caso tutto ok perché la regola per la scia è niente nuove buone nuove naturalmente quindi se non comunico nulla è tutto ok invece nei cinque giorni della scadenza dei termini posso effettuare al suo app al suo motivate proposte o di divieto di persecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi oppure la richiesta di conformazione quindi come abbiamo visto per la scia semplice andiamo avanti e proporrò quindi l'ufficio competente nel merito proporrà al suo app al suo e in generale all'ufficio precedente potrà proporre appunto la motivata sospensione dell'attività anche in questo caso come previsto dall'articolo 19 anche in questo caso nel comma 3 articolo 19 comma 3 anche in questo caso è prevista la possibilità di proporre la sospensione dell'attività insieme alla richiesta di conformazione quando vi sia un'attestazione non veritiere oppure il pericolo per la tutela dell'interesse pubblico nelle materie sensibili quindi ambiente paesaggio beni culturali salute e quant'altro anche in questo caso il termine per regolarizzare l'attività non può essere inferiore a 30 giorni anche in questo caso l'attività è vietata si intende vietata quando nel termine concesso non è inferiore a 30 giorni non è stato fatto nulla e soprattutto non è stato comunicato nulla all'ufficio procedente andiamo avanti veniamo adesso alla scia più complessa anche questa introdotta con la riforma Madia quindi con l'introduzione del nuovo comma 3 della di questo o meglio del comma 3 del nuovo articolo 19 bis la scia condizionata che vuol dire la scia condizionata qui l'esigenza era di diverso tipo cioè vi erano diverse attività per le quali magari l'attività in sé era soggetta a scia però vi erano una serie di endoprocedimenti che erano chiaramente di carattere autorizzatorio quindi non aveva senso parlare di scia quando poi a monte magari vi erano anche autorizzazioni complesse immaginate un panificio in funzione dei volumi prodotti potrebbe addirittura nei casi più gravi essere soggetto all'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera articolo 269 del codice dell'ambiente ma sono n naturalmente i casi in cui un'attività che in sé è soggetta a scia per i vari endoprocedimenti richiede un previo rilascio di un titolo autorizzatore in questi casi spesso gli uffici dicevano in maniera come dire anche un po' pilatesca acquisisci prima l'atto di assenso te lo acquisisci tu e poi me lo presenti e mi porti la scia la logica invece è quella della concentrazione dei regimi amministrativi quindi tutto in un unico procedimento e quindi io presenterò una scia ma questa scia non è più a differenza della scia semplice e della scia unica che abbiamo visto finora ad efficacia immediata è una scia condizionata cioè l'efficacia della scia è condizionata al positivo espletamento della conferenza ai servizi che io come responsabile del procedimento devo indire o nei casi più complessi convocare in presenza quando vi siano appunto questi filoni endoprocedimentali soggetti all'autorizzazione in questo caso il termine per convocare la conferenza decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio attività è subordinato al rilascio di questi atti di cui poi darò comunicazione all'interessato andiamo avanti Pamela quindi abbiamo detto si tratta di casi in cui la scia l'efficacia della scia è condizionata dall'acquisizione di altre autorizzazioni o comunque altri atti di assenso quindi è un meccanismo un po' più articolato dove il meccanismo della scia opera all'inizio e alla fine all'inizio perché io presento una scia appunto anche nella modalistica unificata avrete visto si parla di scia condizionata ma anche alla fine cioè una volta ottenuti gli atti di assenso la scia diventa definitivamente efficace quindi la scia è il procedimento principale su cui si innesta poi una fase di tipo autorizzatorio classico propedeutico quindi qual è il vantaggio che in questo caso io privato non dovrò fare il giro come si diceva una volta delle sette chiese e chiedere i vari atti le varie autorizzazioni per poi finalmente dopo mesi o a volte anni presentare la scia al suo app o al suo ma farò direttamente la presenterò questa scia condizionata quindi sarà onere dei responsabili del procedimento verificata naturalmente come abbiamo detto nei webinar scorsi la completezza della documentazione e quant'altro trasmettere la richiesta dell'indizione della conferenza dei servizi gestire la conferenza e poi dare comunicazione all'interessato che la conferenza ha avuto esito positivo e dalla data di quella comunicazione la scia diventa efficace a tutti gli effetti andiamo avanti quindi fondamentalmente questa è l'articolazione in estrema sintesi l'interessato presente alla documentazione allo sportello il quale rilascia la ricevuta senza l'articolo 18 bis nei 5 giorni lavorativi viene convocata la conferenza o viene indetta la conferenza esente dell'articolo 14,2 quindi conferenza decisoria e l'efficacia della scia è sospesa in attesa che vengano rilasciati gli atti di assenso in conferenza una volta scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti entro 5 giorni il SUAP comunica all'interessato il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata questo è importante perché vi ricordo che anche in questo caso vi è l'inefficacia dei pari ritardivi quindi una volta scaduti i termini che il responsabile avrà dato il responsabile avrà dato alle varie amministrazioni ai vari uffici invitati in conferenza nei successivi 5 giorni quindi nei successivi 5 giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento deve comunicare comunica vuol dire deve comunicare all'interessato quali sono gli atti di assenso pervenuti l'eventuale silenzio assenza e l'attività a quel punto può essere avviata andiamo avanti quindi occorre chiaramente essere in grado di gestire anche in maniera telematica le diverse tipologie di scia come sopra accennato quindi per quanto riguarda la scia condizionata del procedimento autorizzatorio occorrerà naturalmente avere laddove possibile un applicativo che consente quindi o tramite infocamere portali regionali o quant'altro non lo so gestire applicativi che consentono anche la gestione delle conferenze decisorie telematiche sia quella semplificata che simultanea tra l'altro vi ricordo che siamo in regime di proroga quindi fino al 31 dicembre 2024 anche l'eventuale indizione convocazione della conferenza in modalità sincrona deve essere fatta non in presenza ma in modalità telematica quindi con una riunione telematica quindi anche in questo caso è opportuno avere sistemi di videoconferenza come questo insomma per gestire una conferenza simultanea anche se non in presenza andiamo avanti ora queste ultime slide sono invece un aspetto importante e cioè i controlli sulle scia prima ne abbiamo parlato ma in maniera più incidentale allora fondamentalmente tutto quello che leggiamo adesso non è non lo trovate nell'articolo 19 se non in maniera così appunto incidentale e non è oggetto di a meno di linee regionali o quant'altro non è oggetto di normazione positiva diciamo ma è un'elaborazione fatta solo a base dell'esperienza soprattutto quello che abbiamo elaborato in ambito in ambito formats abbiamo fondamentalmente due tipi di controlli un controllo documentale è un controllo ispettivo il controllo documentale quindi quello che si fa quello che si fa sulla documentazione pervenuta il controllo ispettivo lo anticipo è chiaramente meramente meramente eventuale quello documentale è un controllo obbligatorio anche se può essere fatto a campione allora si consta quello documentale di un controllo formale e un controllo di merito il controllo formale lo fa il SUAP il SUE o comunque l'autorità procedente e consiste nello screening quindi nella verifica della competenza formale della documentazione il controllo di merito invece lo fa l'ente competente per merito che può essere o il SUAP il SUE laddove siano anche competenti per materia oppure il diverso ufficio a cui il SUAP il SUA il SUE dovrà trasmettere la documentazione cos'è il controllo di merito bisognerà verificare che l'intervento l'attività è conforme ai presupposti di legge o di regolamenti sulla base di quanto dichiarato dall'interessato perché noi su quello ci basiamo e poi naturalmente se quanto dichiarato dall'interessato corrisponde a verità andiamo avanti quindi focalizziamoci adesso sul controllo sul controllo formale probabilmente detto ok quindi cos'è il controllo formale fondamentalmente dovrò verificare la mia competenza ricevere la pratica l'interesse ad agire alla qualificazione giuridica in capo a colui che ha presentato la scia e soprattutto alcuni elementi essenziali della pratica e cioè la modulistica è stata correttamente e completamente compilata vi sono laddove richieste le asseverazioni vi sono gli allegati e documenti richiesti affinché si possa verificare la conformità dell'intervento ovviamente tutto questo come dicevamo all'inizio a proposito della conferenza di servizi ma vale anche per la scia naturalmente è più facile laddove vi sia modulistica unificata quella nazionale poi tradotta in modulistica regionale delle varie regioni è più complesso laddove invece modulistica non ve ne sia e quindi in quel caso naturalmente bisogna necessariamente attrezzarsi lo dico molto schiettamente in autonomia quindi bisogna in qualche modo verificare anche sulla base di prassi di altri comuni di altre province eccetera nella mia regione come si è come si è come è stato affrontato e risolto questa problematica in questa fase di controllo formale non c'è ancora la veri il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni perché io su apposue che non sono anche competente per materia non sono un tuttologo quindi non è che verifico la veridicità andiamo avanti la veridicità della della dichiarazione andiamo avanti eccola qua la la dichiarazione la fa soltanto l'ufficio competente per materia ora poi sempre a proposito del controllo formale nel caso in cui durante la verifica questo è un passaggio molto delicato perché vi sono prassi applicative molto diverse in Italia ma è bene darne conto in questa in questa discussione quindi se riscontro missioni o carenze sanabili allora l'ufficio può anche invitare l'interessato a effettuare la regolarizzazione della scia entro un termine congruo ora ora non stiamo parlando di richiesta di conformazione o di vieto di prosecuzione dell'attività ma è una fase ancora precedente quindi sto in una fase di controllo formale e ti sto invitando a effettuare la regolarizzazione della scia entro un termine congruo naturalmente questo termine da un lato deve tener conto della complessità delle correzioni e integrazioni da portare dall'altro deve essere il più breve possibile in considerazione del fatto che chiaramente la scia è efficace e produce i suoi effetti e finché non effettuo o la richiesta di conformazione dell'attività o il divieto di prosecuzione comunque il contatore dei giorni corre quindi 60 o i 30 giorni vanno avanti quindi è chiaro che il termine che dovrò dare è molto breve tra l'altro questa è una è un aspetto assolutamente basilare da segnalarvi quello che vi ho appena detto non è previsto nell'articolo 19 quindi questa la norma non prevede assolutamente come obbligatoria questa fase di regolarizzazione formale e perciò qui veniamo a quella alle prassi applicative molto difformi sul territorio nazionale ma a macchia di leoparda non dico tra regioni e regioni proprio a livello di province anche di comuni di singoli comuni della stessa provincia ci sono prassi applicative del tutto divergenti e cioè alcuni danno questa possibilità al privato ai sensi anche dell'articolo 6bis della 241 del soccorso istruttorio danno la possibilità di provvedere a questa correzione e integrazione della documentazione altri suapessue tagliano corto e in questo caso dichiarano la scia irricevibile e priva di efficacia perché irricevibile l'irricevibilità è una fattispecie che sia quando la documentazione presentata manca di quel minimo necessario affinché io possa avviare l'istruttoria quindi è una mancanza insanabile a fronte della quale io effettuerò la scia effettuerò la dichiarazione di irricevibilità non è un provvedimento è una dichiarazione perché non faccio altro che prendere atto quindi un atto meramente ricognitivo prendo atto della irricevibilità della scia però ripeto qua abbiamo sono prassi divergenti su cui non posso assolutamente dirvi qual è giusta e quale è sbagliata sono assolutamente entrambe nel solco della normativa vigente io ovviamente faccio salve eventuali normative regionali mi perdonerete ma qui perché sono coinvolti enti di diverse regioni anche di zone d'Italia molto differenti non posso che fare un commento sulla legge generale sul procedimento amministrativo della legge 241 andiamo avanti Pamela veniamo invece finalmente al controllo di merito che è il controllo che effettua l'ufficio competente per materia quindi se il suo app il sue sarà il suo app il sue o altro ufficio competente quindi in questo caso vanno effettuate le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente che deve essere questo controllo deve essere completato entro i 60 o i 30 giorni ed è in questa fase di controllo di merito che si collocano i due rimedi istruttori previsti dal comma 3 dell'articolo 19 che abbiamo commentato prima e cioè la richiesta di conformazione o il divieto di prosecuzione dell'attività ed è in questo caso che che questi controlli devono essere effettuati in caso di scia unica devono essere comunicati al suo app o al suo procedente nei nei cinque giorni precedenti il termine di scadenza quindi entro il cinquantacinquesimo o il venticinquesimo giorno rispettivamente in caso di scia amministrativa o di scia edilizia quindi i soggetti coinvolti in questo caso effettuano un controllo di merito sulla documentazione verificano cioè che l'intervento o l'attività sia conforme ai presupposti di legge o di regolamento e che le autocertificazioni siano veritieri quindi qua entriamo proprio nel merito entriamo nella sostanza della scia andiamo avanti come si fa il controllo naturalmente in questo caso non soccorre la 241 ma direttamente il testo unico della documentazione amministrativa in particolare l'articolo 71 del 445 del 2000 il DPR appunto sulla documentazione amministrativa che dice che le amministrazioni sono tenute a effettuare i doni e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di certificazione articolo 46 e dell'atto di notarietà articolo 47 anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi quindi la cosa si può fare anche a campione come nel caso dei comuni quando non vi sono risorse disponibili strumentali ma soprattutto umane per poter effettuare un controllo a tappeto immaginiamo tante pratiche poco personale il controllo si fa a campione quello che è importante lo dico sempre è predeterminare oggettivizzare le modalità di campione quindi io per esempio non pretendo di essere di avere la verità in tasca vi dico semplicemente quello che facevo io quando lavoravo al SUAP io effettuavo un bel sorteggio delle pratiche che sarebbero state sorteggiate lo mettevo nella home page del comune anche all'albo pretorio poi non veniva mai nessuno perché io ovviamente scrivevo che risertava di un sorteggio aperto al pubblico nessuno ci filava diciamo ma neanche di striscio ma questa cosa non era importante perché noi comunque davamo atto nel verbale che era stata effettuata questa pubblicazione della notizia che al giorno X si era tenuto il sorteggio non c'erano interessati e quindi si procedeva al sorteggio delle pratiche con modalità noi usavamo l'Excel che oggi diciamo la modalità che va per la maggiore ma ci sono anche altre modalità con access altri io parlo scusate mi parlo di prodotti della suite Microsoft non dovrei perché in tempi di open data è chiaro che ogni applicazione c'è anche il formato open source ma insomma ci siamo capiti fogli di calcolo o simili insomma che predeterminano si mette il totale e straggono automaticamente il campione quindi sulla base di questo si fa un verbale e vado abbastanza sicuro quindi perché altrimenti il problema sorge sempre quando poi la pratica non controllata emergono con problemi di dichiarazioni false e quant'altro quella non l'ho proprio controllata e chiaramente devo dare conto a chi di dovere del perché quella pratica io non l'abbia non l'abbia proprio controllata andiamo avanti e il controllo ispettivo invece è una diciamo così è una fase eventuale quindi può al controllo documentale può essere affiancato un ulteriore approfondimento che si fa mediante ispezione in loco ora per verificare proprio se sorgono questo si fa soprattutto se sorgono dubbi è un controllo che è molto invalso nei procedimenti finalizzati alla concessione di finanziamenti sulla finanza agevolata è molto invalso ma si può usare anche nelle scia perché no quindi per verificare proprio in loco la veridicità e la corrispondenza dell'intervento alla scia presentata ora chiaramente la scia la posso effettuare direttamente oppure come molto più spesso accade la demando agli organi di vigilanza che può essere la polizia locale ma può essere anche possono essere le forze dell'ordine quindi i carabinieri la polizia la guardia di finanza insomma a seconda delle problematiche che io abbia riscontrato ed è possibile anche eventualmente per il controllo ispettivo anche in questo caso procedere a una programmazione a campione anzi proprio su questo vi sono delle normative insomma che hanno previsto anche in conferenza unificata a Stato-Regione appunto delle modalità per semplificare la programmazione dei controlli e infatti è previsto che per ridurre o eliminare inutili sproporzionate o non necessarie di obbligazione occorre coordinare coordinarsi nelle attività di controllo per evitare che magari la sesta impresa venga venga soggettata a plurime forme di controllo e quant'altro quindi questa è una modalità importante per evitare per evitare duplicazioni io Pamela non so se questa era l'ultima slide o se ce n'è un'altra a memoria era l'ultima eccomi è l'ultima slide la 26 di 26 quindi interromperei la condivisione dove vedo le domande pervenute ecco qua allora no ci chiedono infatti questa è un'informazione che volevano dare se questa il materiale e questa lezione può essere salvato in un file troverete i due webinar del dottor Roccasalva passato e tutto il materiale nel nostro canale territorio in mete e il link c'è nella chat lo vedete ok trovo un'altra domanda la vedo quella di Francesco del Negro allora formulari relativi alle indizioni di conferenza dei servizi ne trovate in resa quanti ne volete ci sono per rimanere a un livello più istituzionale ci sono dei formulari che furono fatti all'epoca da Lanci ricordo subito dopo l'entrata in vigore appunto del decreto legislativo 127 del 2016 quindi dei format diciamo sui principali edempimenti della conferenza dei servizi poi altri ne trovate di comuni regioni insomma non voglio fare alcuna forma di pubblicità istituzionale tanto voglio dire basta vedere nei motori di ricerca Lanci sicuramente ha predisposto già nel 2016 dei format specificamente sulle conferenze dei servizi sulle scia vi dico la verità non ho non ho memoria di questo quindi in questo caso posso correre appunto una ricerca su google o quant'altro insomma ecco vediamo se c'è qualche altra domanda non vedo in chat altre domande se volete potete o alzare la mano scrivere o aprire vi chiedete di aprire il microfono non mi sembra speriamo di essere stati chiari non perché non è che non si è capito niente quindi non ci sono no sei stato estremamente esostivo e chiaro quindi ringrazio speriamo dell'approfondimento sono argomenti complessi chiaramente parecchio sì parecchio non è facile eccolo qua Franco ha messo una pubblicazione in pdf del lanci sulla sulla scia grazie Franco grazie Franco ci sono altre condivisioni volete anche condividere un caso che vi è capitato e ne vogliamo parlare insieme siamo a disposizione grazie Francesco sì è vero è stata molto molto chiara il tuo approfondimento Riccardo come vi dicevo tutto il materiale a breve insomma lo caricheremo sul nostro canale potete trovare lì le slide utilizzate durante la lezione di oggi e il materiale utilizzato nei due webinar precedenti ok se non ci sono altri interventi o richieste di domande io ti ringrazio Riccardo grazie a voi del tempo grazie a tutti i partecipanti ringraziamo tutti i partecipanti e ci diamo appuntamento alla prossima va bene grazie a tutti grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti